Sì, assolutamente. Le giornate formative sono utilissime. Tra l'altro è naturale che la trasparenza non è al centro del mio lavoro e quindi avere la possibilità di un approfondimento sia legislativo sia dal punto di vista tecnico è molto utile e fa sì che poi il processo possa diventare più fluido andando avanti. Naturalmente ci vuole un po' di tempo, un po' di pratica, come per tutto.